Quando diciamo che la Biennale in tutti i suoi settori opera secondo spirito di ricerca e quindi anche nel cinema opera con spirito di ricerca nell'organizzare la mostra, intendiamo non una versione manieristica del concetto di ricerca, ovvero una sorta di isolamento da parte nostra verso laboratori occulti e misteriosi. Intendiamo una nostra capacità di cogliere dove il mondo degli artisti ci indica di andare, dobbiamo essere in grado di cogliere l'incalzare del tempo che gli artisti ci portano, l'incalzare delle loro riflessioni, l'incalzare delle loro creazioni come momenti di consapevolezza del tempo che trascorriamo, del tempo che viviamo. In questo senso la ricerca vuol dire essere capaci di un occhio più ampio, essere capaci di uno sguardo più ampio, essere capaci di andare al di là di quello che ci circonda, dell'ovvio, del consueto, di tutto ciò che porta semplicemente o a conformismi o a disperazione ed uscire attraverso l'arricchimento di tutti noi, attraverso la capacità creativa che sta negli uomini, in particolare negli uomini che operano in tutti i settori artistici. La vitalità della mostra di quest'anno sarà proprio da ricondurre alla grande vitalità che il cinema mostra in questo momento di fronte ai drammi del mondo.